Oggi ci sono cristiani assassinati, torturati, sgozzati, perché non renegano Gesù Cristo. In questa storia arriviamo al nostro Persac. Lui fa parte di questa catena di martiri. Ha dato la vita nello stesso sacrificio di Gesù sull'altare. Da lì ha accusato l'autore della persecuzione, Vattene e Satana. Dobbiamo pregarlo, che ci dia anche il coraggio di dire la verità, uccidere in nome di Dio e Satana. Che ci dia l'amintezza, la fratellanza, la pace. Iscensé des marins Jamais dans ces esprime ne songez Dans la fraiche complice des embrun A remettre son somme jusqu'au soir Fier d'or me guarder l'exemple en mémoire